Il vincitore è... Domani è una figata, Sorgenia! Ritirano il premio Miriam Frigerio, head of Brand & Communication e Simone Lonostro, market e ICT director. Eccoli qua, salite. Il prossimo anno ci vorrebbe un taxi che dai tavoli porta un viaggio per arrivare qua, facciamo un altro applauso, grazie, venite. Buonasera. Mano vi dà il premio. Buonasera, chi è che ringrazia? Prego. Per essere completamente diverse io direi che deve ringraziare una donna. Scusa, una roba orribile, sai che hai una cravatta come Trump? No. E con questo chiudo, vai prego. Ma non è come Trump. È uguale, solamente lui è come uno scaldabagno fuori norma. Tu invece sei perfetto. Però io parlo italiano. È meglio. Vai, scusate. Ma che dire, a parte l'emozione, la sorpresa e l'onore, io sono molto contenta perché finalmente, come dire, chi fa comunicazione aziendale, quella che una volta si chiamava la pubblicità, può essere considerato anche portatore di un messaggio, di una visione della società che non deve essere necessariamente delegata soltanto a persone che fanno altri lavori. Per noi questa è una cosa bellissima e sono veramente molto emozionata. Vi ringrazio. Grazie, grazie tante.